Il cavallo in Arezzo è importantissimo, diventa il simbolo della città, però non solo come simbolo equestre, è anche un simbolo, è un icono. Se noi vediamo il sogno di Constantino all'interno di Chiesa, si vede il cavallo, la rappresentazione, l'importanza che anche Piero della Francesca ha fatto l'enfasis nella rappresentazione di Echino. Fino a qualche mese fa era ancora lì, in piazza San Francesco, il grande cavallo di bronzo dell'artista messicano Gustavo Sevez ed adesso potrebbe tornare proprio sul sagrato della Chiesa in dialogo armonico con gli affreschi di Piero della Francesca. L'opera è stata infatti donata alla città di Arezzo. Nel momento della presentazione del catalogo ci disse che lui avrebbe lasciato un'opera ad Arezzo, ma non ci aveva detto quale. Poi quando fece i bagagli e portò via tutto, rimase questo cavallo e noi intuimmo che forse c'era la sua volontà di donarcelo, cosa che si è formalizzata questa mattina con un atto notarile. Quindi io non posso che ringraziare il maestro Sevez di questa donazione, che è una donazione che lui ha fatto alla città di Arezzo. E l'ha fatta con una dedica. Ha voluto ricordare che lui non dà mai un titolo alle sue opere, perché le sue opere il titolo lo prendono nel momento in cui vengono contestualizzate in una presentazione che è ogni volta diversa. Per questo ha fatto un'eccezione e ha battezzato questo bellissimo monumento equestre, che peraltro mancava ad Arezzo, il cavallo della vera croce. Quindi con un richiamo diretto e continuo a quella che è stata l'ispirazione di questa forma nella sua arte. Ancora non è stata decisa la collocazione dell'opera in città. Sicuramente dovrà passare dal pronunciamento della soprintendenza, ma per l'artista non ci sono dubbi. Il suo posto è di fronte alla Basilica di San Francesco, come durante la mostra Lapidarium, ospitate in città dal giugno 2018 al febbraio 2019. Non voleva partire dall'Italia senza lasciare una piccola impronta, un piccolo pezzo che simbolizza il mio ringraziamento a un paese, a una cultura, a quello che ha stato per me il faro culturale dell'umanità di tantissimi anni.